Cittadine e cittadini, stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile e molto insidioso per la nostra stessa vita. Purtroppo ancora qualcuno sta avendo un comportamento superficiale. Non rischiamo di trovarci in una situazione come quella dei nostri fratelli bergamaschi che sono costretti a contare un morto ogni mezz'ora. Dobbiamo assolutamente rimanere a casa, anche se le restrizioni prevedono alcune eccezioni. Evitiamo di utilizzarle. Saremo costretti a rinforzare i controlli e denunciare i trasgressori. Dobbiamo evitare che il contagio possa propagarsi. Ringrazio tutte le famiglie che stanno rispettando perfettamente le prescrizioni. Chi è costretto a uscire eviti qualsiasi contatto, rispetti le distanze e lavi spesso le mani. Rimaniamo assolutamente a casa fino al 25 marzo e vedrete che piano piano tutto ritornerà come prima.